Buonasera e bentrovati con informazione su Icaro TV, allora vediamo subito i titoli di oggi. E' stata fissata per domani l'autopsia del bimbo di due mesi, morto ieri pomeriggio a Villa Verucchio, mentre dormiva nella sua culla. Beni confiscati alla criminalità, il dossier sulla provincia, le ipoteche bloccano, riutilizza scopo sociale, sei quelli confiscati a Rimini ma non utilizzabili. Evasione fiscale, oltre 2.000 segnalazioni qualificate nel 2014, dal 2001 ad oggi recuperati oltre 22 milioni di euro. Oggi l'eclissi anche a Rimini, diversi curiosi che si sono attrezzati con mezzi rudimentali, un 41enne in pronto soccorso per dolore agli occhi. Come avete sentito sarà effettuata dunque domani l'autopsia sul bimbo di appena 50 giorni, morto nella sua culla. Ieri pomeriggio a Villa Verucchio, mentre era in casa dai nonni, il bambino stava dormendo dopo essere stato allattato ad accorgersi che il piccolo non respirava più. Intorno alle 14.30 sono stati proprio i nonni che hanno subito chiamato il 118, ma purtroppo i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario sono stati vani e il bimbo è arrivato senza vita all'ospedale. Ancora non sono certe le cause che verranno stabilite sicuramente domani durante l'autopsia. L'ipotesi più probabile sono quelle della sindrome nota come morte in culla oppure di un rigurgito. Della vicenda si occupano anche i carabinieri di Nova Feltra intervenuti sul posto per i rilievi. La famiglia, originaria della Val Marecchia e da alcuni anni viveva a Roma, era tornata per trascorrere alcuni giorni a casa dei nonni. Sulla scia del dossier prodotto dal gruppo antimafia Pio La Torre di Rimini, l'osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della provincia in senergia con Stop Blancheo, progetto cofinanziato dall'Unione Europea sul contrasto alle mafie in ambito economico, ha aggiornato la panoramica dei beni confiscati nei comuni della provincia. Emerge la difficoltà nel riutilizzarli a scopo sociale. In provincia di Rimini al febbraio 2015 sono sei i beni confiscati in via definitiva. Non si tratta di beni necessariamente sottratti alla criminalità organizzata, precisa l'osservatorio provinciale. Uno è nel comune di Rimini, uno a Cattolica, tre a Riccione e uno a Misano. Il paradosso è che nessuno di questi, ad oggi, è stato riutilizzato come prevederebbe invece la legge sulla riassegnazione per fini sociali dei beni confiscati. Il progetto che sembrava più vicino al completamento era quello riguardante il comune di Bellare Giamarina, prima che intervenisse la sentenza di revoca della confisca. Anche il progetto per il riutilizzo di un appartamento riminese si è arenato a causa dell'ipoteca che grava sul bene, in quanto è stata riconosciuta la buona fede dell'istituto di credito che l'aveva concessa. Nella medesima situazione si trovano i beni confiscati a Riccione e Misano, le ipoteche rimangono inalterate e il riscatto è un'operazione finanziariamente insostenibile per i comuni. Per tre appartamenti nel comune di Rimini si attende la pronuncia della Cassazione in merito a un ricorso presentato dalla difesa, mentre su un ristorante nel comune di Bellare Giamarina, per il quale è stata rievocata la confisca, pende il ricorso presentato dalla procura. Nel dossier infine viene lanciato un appello affinché si trovi una mediazione tra gli istituti di credito e le amministrazioni comunali. Sono state oltre 2000, parliamo di evasione fiscale, le segnalazioni qualificate al 31 dicembre 2014 effettuate dal comune di Rimini nell'ambito del protocollo d'intesa con l'Agenzia per le Entrate dell'Emilia Romagna e mirata al recupero dell'evasione fiscale. Un'attività che ha visto il confronto continuo oltre che con l'Agenzia delle Entrate e anche con l'Agenzia del Territorio e la Guardia di Finanza e che si è concentrata su diversi filoni. La ricerca degli evasori totali, il monitoraggio della corretta dichiarazione di redditi da allocazione, il controllo dell'evasione immobiliare. In particolare su quest'ultimo fronte il 31 dicembre 2014 sono state 1200 le segnalazioni di fabbricati fantasma inoltrata all'Agenzia del Territorio con la notifica di oltre 2300 avvisi e accertamento per mancato avversamento delle imposte comunali per un totale di oltre 1.978.000 euro. Il controllo sull'evasione dei tributi locali ha consentito il recupero dal 2001 al 2014 di più di 22.500.000 euro. Nel complesso i dati dell'Agenzia delle Entrate, aggiornati però al 31 dicembre 2013, parlano di una maggiore imposta accertata per il Comune di 3.280.000 euro, di una cifra riscossa dal Comune pari a 1.400.000 euro. C'è stata una commissione comunale questa mattina che è stata disertata dalla maggioranza in polemica con la Presidente Franchini. All'ordine del giorno la riqualificazione della colonia Murri e le rotatorie sulla Statale 16. Commissione quanto mai polemica questa mattina disertata dalla maggioranza in contrasto con la Presidente Franchini, rea, secondo loro, di poca democrazia nel convocare commissioni con all'ordine del giorno temi che si potrebbero sbrigare con semplici interrogazioni. Così l'assessore Biagini si è trovata ad illustrare la situazione del recupero della colonia Murri davanti a molte sedie vuote. Ormai noto il fallimento della società Rimini e Rimini, Biagini ha chiarito la risoluzione del contratto per inadempimento e il rapporto convenzionale per l'accordo urbanistico che resta in essere con il subentro del curatore fallimentare. Tra i punti anche il permesso di costruzione residenziale e dei parcheggi nell'area ex Ceschina. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il Comune è creditore di circa 200.000 euro per interessi sul ritardato pagamento del diritto di superficie, somma per la quale l'amministrazione si insinuerà nella procedura fallimentare. Sul tema sicurezza, già prima del fallimento, l'amministrazione è intervenuta chiedendo il ripristino della recinzione e la riconduzione al decoro dell'area. Il rischio è che l'immobile si trasformi, soprattutto d'estate, in ricovero di sbandati. Preoccupazione condivisa dal curatore che ha già avuto un incontro con i vertici della Polizia Municipale per affrontare la questione. Tra le ipotesi emersi è anche quella di utilizzare una parte del complesso per collocarvi una postazione anti-abusivismo. Ma in commissione si è parlato anche delle rotatorie della Statale 16. La Giunta Comunale ha chiesto l'accesso diretto da via Flaminia Conca, via Coriano e da via Montescudo. Su questo la Regione si è impegnata ad aprire un tavolo con ANAS prima della conferenza dei servizi. Per accelerare i tempi il più possibile, intanto il Comune ha accantonato le somme in bilancio 1,3 milioni di euro, nel caso in cui non sia ANAS a provvedere agli espropri. E ieri in tutta Italia si è svolta la protesta del SAP, il sindacato autonomo di polizia, per sensibilizzare il governo all'adozione di provvedimenti urgenti in materia di sicurezza, resi ancora più necessari dall'emergenza terrorismo. A Rimini il sindacato parla di situazione intollerabile a causa della carenza di mezzi ed organici, è gravata dai tagli dell'ultima legge di stabilità. Poliziotti ai semafori negli incroci, con secchi e spazzoloni, per distribuire 500.000 cartoline agli automobilisti e ai cittadini. A Rimini erano agli incroci di via Pascoli e via Ugobassi e tra le vie Tripoli e 20 Settembre. Nella cartolina indirizzata dal Premier Renzi si vede l'Isis che conquista Roma con il Colosseo messo a ferro e fuoco e il messaggio è che la Camera dei Deputati spende 7 milioni l'anno per le pulizie, ma non ci sono 6 milioni per un corso antiterrorismo col quale formare gli agenti. 12.000 tra operatori di volante, reparto prevenzione crimine e operatori di polizia di frontiera. Non tolleriamo questa situazione perché abbiamo veramente dei gap da riempire, anche il ruolo dei sommintendenti come quello degli agenti esistenti. Abbiamo migliaia di agenti, donne non ammessi che sono pronti per partire, quindi per riempire un po' le file della Polizia di Stato che in questo momento sta subendo quei pensionamenti dei tagli di personale eccessivi e quindi non riesce poi a garantire a livello territoriale anche i minimi servizi per quanto riguarda il controllo del territorio. Quindi ha comunque riscorso notevole consensi proprio perché intanto è unica, non si era mai vista un'iniziativa in questo genere. E poi aveva il contatto diretto con il cittadino. Tant'è che ieri abbiamo sentito in molti applausi quando si fermavano i cittadini e i semafori venivano accolti dal nostro personale che faceva questo tipo di attività sindacale con anche dei ringraziamenti visibili per questa nostra iniziativa. Tra le richieste al Presidente del Consiglio Renzi sblocco del turnover, stop alla chiusura dei presidi di Polizia, assunzione degli idonei dei concorsi, sanare il sottorganico di 9.000 sovrintendenti e 14.000 ispettori. La Segreteria Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia ha trasmesso da settimana ai parlamentari le proposte, alcune delle quali sono state accolte e trasformate in emendamenti da inserire nel disegno di legge di conversione del decreto antiterrorismo. Cambiamo argomento, parliamo dell'eclissi, era stata annunciata, tanto attesa, Rimini si è conclusa, è uscita appunto Rimini intorno alle 11.45 da questo effetto, dopo il picco intorno alle 10.35. E in giro questa mattina c'erano diversi curiosi che armati di protezione più o meno ortodossi e comunque rudimentali, mettendo a repentaglio l'obiettivo del telefonino, hanno cercato di assistere in diretta allo spettacolo. Ma anche chi, nonostante quell'effetto di luce soft che abbiamo visto tutti, le temperature improvvisamente più basse, non si è accorto di niente. Allora ascoltiamo alcune voci raccolte proprio questa mattina in piazza Cavour. Avrei visto asciugando i capelli alla luce dell'eclissi, quindi chissà quali superpoteri acquisirò. Hai provato a fotografare? Direi di no, penso che non sarebbe un'ottima idea. Qui sono importantissimi strumenti tecnologici, è la NASA che li produce, se non erro. Sono fuori produzione, però sono ancora strumenti che possono essere validi per un incontro del genere. Sono notati qualcosa di strano in questo momento. In che senso? Dovrebbe essere il momento di picco dell'eclisse. Ah, non lo ricordavo che era oggi, ecco. Stavate guardando i monumenti? Sì, stavamo guardando là. Monumenti, chiaramente la piazza principale, molto bella questa. Anche con la luce soffusa? Anche con la luce soffusa. State guardando l'eclissi o un'anca? Eh no, stiamo guardando l'eclissi. Abbiamo provato a cercare i vetrini, quelli che vanno nella maschera per saldatore. erano finiti in tutte le ferramente e quindi abbiamo optato per la lastra. Spero niente di grave, comunque in quella lastra. No, niente di grave, niente di grave. Tutto a posto. Sei provato anche a fare foto? No, 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 no. Ci godiamo solo l'atmosfera e guardiamo. Si sabina il sole anche se un po', se è a metà? Sì, 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 è bello. Però la sensazione del sole è che non scaldi più tanto. Ho visto un spettacolo, però speriamo se vedi anche buio, vedi bene, se non ricordi c'è piccola quando hai visto un'altra volta. C'è anche qui in cellulare, voglio vedere, per anche spiegare a mia nipote, se c'è mia nipote c'è piccola, per spiegare, per vedere eclipsa. Favo gli occhiali da sole, quelli, sei portato? Da sole e quelli, mi dovrei scatafasciare la retina, insomma. È importante la retina, ragazzi, è importante. E per fortuna non ci sono state conseguenze sugli occhi dei riminesi che sembra abbiano ascoltato i consigli degli esperti. Infatti solo un 45enne del nostro territorio si è recato al pronto soccorso dell'ospedale infermi perché accusava dolore agli occhi dopo aver guardato l'eclisse con gli occhiali da sole e una lastra radiografica. I medici del pronto soccorso oculistico non hanno rilevato per fortuna niente di particolare, hanno prescritto all'uomo solo un collirio riposante. Domani alle 17.30 in Basilica Cattedrale a Rimini sarà celebrata la Santa Messe, ricordo di Chiara Lubic nel settimo anniversario della scomparsa. Nel 1997 il Comune di Rimini aveva conferito la cittadinanza onoraria alla fondatrice del Movimento dei Focolari per la quale a gennaio si è aperta la causa di beatificazione. Questa mattina la nostra trasmissione temporale è intervenuto Don Giancarlo Moretti dell'Associazione Culturale La Ginestra, promotrice di diverse iniziative. Il ricordo di Chiara, ascoltiamo. La Messa di domani è importante perché è l'anniversario, ma è un anniversario speciale perché è iniziata in maniera anche molto rapida la causa di beatificazione voluta dalla Chiesa, non cercata dal Movimento. Questo è molto interessante. Lei aveva stato scritto nel Libro d'Oro, al momento della cittadinanza onoraria, che Rimini conosca una fraternità così bella da dare gioia e pace a tutto il mondo. Rimini è sempre alla ricerca di questa capacità di affermare la fraternità. La municipalità di Rimini è sempre stata molto viva e con tutte le realtà più belle che ci sono in tutti i campi, sia quello laico come quello più religioso o così diverso. e ha voluto dedicare a Chiara una rotatoria, proprio la prima, entratta in città, all'inizio di via Roma. Questa appena sarà pronta tutta l'aspetto burocratico, allora ci sarà anche l'inaugurazione che però sarà a breve. Ed è molto interessante che il punto di ingresso della città viene dedicato a Chiara. Appunto è un punto, un crocivia Chiara, proprio di tante culture, di tante esperienze qui a Rimini. E torna domani alle 21.10 l'appuntamento con Tic Vagli, gli intrecci della speranza, il programma prodotto da Icaro TV in collaborazione con le emittenti cattoliche che fanno parte del circuito nazionale corallo. In questa puntata dalla Toscana arriva la tenacia di una mamma che è andata fino a Roma in bici portando con sé la sua bimba disabile e poi la speranza che arriva dal patrimonio archeologico e storico ci porta invece a Pompei. Con due giovani pugliesi si parla di satira, con la redazione siciliana andiamo invece alla festa per l'anniversario dei due nonnini siciliani sposati da 65 anni che sono stati resi famosi dal festival di Sanremo. L'approfondimento porta invece proprio a Rimini con il racconto dei volontari della Papa Giovanni XXIII che ogni sera vanno in stazione e offrono un pasto caldo e un letto a chi vive in strada. Vediamo un'anticipazione della puntata. Un giorno gliel'ho detto alla Sara, io gli faccio dico Sara chi siamo io e te? Io gli dico sempre una cosa unica, invece lei una sera mi ha risposto una cosa eccezionale mamma. La carrozza delle principesse ha fatto colpo su di lei, poi è nato che c'erano i cavalli che avevano trenato. È partita l'idea di questa cosa più grossa, andiamo a Roma. Che la speranza di una ripresa dell'Italia passi anche attraverso la valorizzazione del suo patrimonio d'arte e cultura non è un modo di dire. Protagonista l'Università degli Studi di Salerno che è tra i vincitori del grande progetto Pompei finanziato dalla comunità europea e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. L'intervento dell'Ateneo di Salerno, oltre a comprendere importanti aree monumentali, garantirà restituzioni in 3D di grande definizione. Stando a quanto riferisce l'enciclopedia Treccani, la satira è una composizione poetica che rivela e colpisce con lo scherno e con il ridicolo concezioni, modi di vita e atteggiamenti che discordano dalla morale comune o dall'ideale etico dello scrittore. Che cos'è per voi la satira? È una delle più alte espressioni della libertà dell'uomo. È una forma d'arte, ma che a differenza dell'arte non descrive, non esprime sentimenti, evidenzia l'abbruttura dell'uomo. 65 anni fa Bartolomeo andava a trovare Concetta in bicicletta, lei abitava a Modica, lui a Scicli. Dopo solo due mesi di fidanzamento, il 29 ottobre del 1949, Concetta e Bartolomeo si dissero sì. Dopo 65 anni speriamo sempre così e diamo tanti auguri ai giovani di oggi. Ho appuntamento con Giulia, servizio civile. Perché non c'è nessuno? Ma perché la gente adesso è ancora presto, perché arrivi qui, arriva verso notte tarda, abbastanza in oltre a casa. Sì, vengono qua giusto per dormire, perché tanto di giorno stanno in giro. Ci sono le tazze della colazione, vedo. Sì. Qui siamo alla Messia del Santo Spirito, qui tutte le sere i frati danno a mangiare. E con l'uso di persone sono varie, cioè non sono solo barbon, senza tetto, insomma. Ci sono anche persone che hanno difficoltà ad arrivare a fare la spesa e quindi magari vengono qui e mangiano qui. Si è chiusa oggi alla Rimini Fiera Enada con un bilancio positivo, 25.835 visitatori registrando un più virgola 2%. Allora in chiusura vi presentiamo alcune delle novità che sono state presentate in questi giorni, dalla Preistoria al Futuro, dal karaoke social al biliardo con i palloni da calcio. Vediamo. Pilotare un Boeing con la simulazione virtuale, sciare sulle piste più in voga del momento, immergersi nella preistoria di Jurassic Park e pilotare l'astronave di Guerre Stellari. Tra i tech e tradizione si è conclusa oggi a Rimini Enada, la fiera delle attrezzature da intrattenimento e da gioco. Simbox è un videojoobox riproduttore con la funzionalità di karaoke che permette di cantare sui brani, vedere le parole, vedere le note e condividere la propria performance su Facebook, Twitter e i social. Calcio e biliardo è un incrocio tra il gioco del calcio e il biliardo. Le regole sono le stesse del biliardo, dunque 8.15 in buca laterale, le palline devono andare tutte dentro, la bianca deve rimanere fuori, però si gioca con i piedi, dunque con l'abilità di quello che è il gioco del calcio. Veniamo dalla Corea per presentare questo simulatore emozionale per la prima volta al mondo e il 3D unito al movimento meccanico ed un gioco interattivo creano un'attrattiva in grado di poter piacere a persone di tutte le età. Questa per noi era l'ultima notizia, vi ricordo che altri approfondimenti di attualità di cronaca lo potete trovare sempre sul nostro sito newsrimini.tv, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie ancora dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto. Grazie.